Buonasera con Mercati che fare, ben trovati. Quanto conta l'emotività nelle scelte di risparmio e di protezione di tutto quello che noi siamo capaci di costruire? Ne parleremo questa sera con Paolo Legrenzi, docente merito di psicologia economica all'ACA Foscari di Venezia. Grazie per essere qui con noi, professore, per averci accompagnato in questo percorso emotivo. Mercati che fare è un percorso emotivo, parliamo tanto di risparmio. I risparmi generano emozioni nel bene e nel male, no professore? Generano emozioni perché in genere nel risparmio si incorpora, si materializza la fatica che quella persona ha fatto per cumulare quei risparmi. Io dico sempre che è un doppio sacrificio, bisogna produrli e non bisogna spenderli. Esattamente, quindi in realtà l'emotività deriva da questa storia dei risparmi di ogni persona che parte della storia della vita, del lavoro di questa persona. Se noi ci importassero meno i nostri risparmi sarebbe molto più facile, per un curioso paradosso, in realtà gestirli. Saremo dei migliori investitori. Dei migliori investitori e gestori dei nostri risparmi. Vediamo però come gli italiani da questo servizio che ha preparato la nostra redazione hanno costruito la loro ricchezza fino ad oggi e come la interpretano. Investimenti a breve, investimenti a medio e lungo termine, immobili, capitale umano. Queste sono le quattro voci che assieme compongono il nostro patrimonio, determinano quindi il valore complessivo di ognuno di noi. Ma quanta importanza gli riserviamo? L'immobile è sicuramente una priorità per noi italiani. Oltre il 70% delle famiglie è infatti proprietaria dell'abitazione in cui vive. Se spostiamo l'attenzione ai beni immobiliari, più della metà dei risparmi sono invece detenuti in forma liquida o semiliquida, quindi in investimenti con orizzonte temporale di breve termine. Se la scelta dell'immobile è facilmente giustificabile nella ricerca di una sicurezza abitativa, la motivazione principale che porta a scegliere la liquidità rispetto ad un investimento a lungo termine è dettata dalla prudenza. Una gestione fai-da-te del cosiddetto non si sa mai. Ma congelare il risparmio a breve termine per possibili imprevisti futuri è davvero la scelta giusta? Per prima cosa è indispensabile comprendere l'importanza del nostro capitale umano. Se in primis non ci assicuriamo di proteggere il nostro valore e i nostri beni, rischiamo di vanificare anche tutti i benefici di una corretta pianificazione finanziaria. Risparmio e protezione sono quindi due tematiche fondamentali nella nostra vita che non possiamo permetterci di dare per scontato o affrontare con superficialità. Bene, professore, quante volte si sarà sentito dire non si sa mai nella sua vita di docente e anche di scrittore, visto che lei racconta tutte queste cose in questo testo che si intitola L'economia nella mente? Grazie. Molte volte, soprattutto nella cultura italiana, che è una cultura di risparmiatori e nello stesso tempo di persone prudenti, la classica strategia del fai da te, cioè di gestire da sé i propri risparmi, in realtà ha proprio la prudenza, che è una cosa saggia di per sé, però ci ha, diciamo, fuorviato bloccando tutta questa liquidità, questi investimenti a breve termine, in chiave di protezione rispetto a questo non si sa mai. Quindi noi siamo preoccupati, sì, ma non troviamo le strade corrette, mi corregga se dovessi errare, per percorrere questo non si sa mai. In sintesi è proprio questo, mentre dirlo così sembrerebbe facile però, dopo invece smontare questo fai da te, tale per cui, da un punto di vista, poi anche delle statistiche, gli italiani sono molto poco assicurati, in realtà è molto difficile, perché se l'approccio è i risparmi più le assicurazioni, in realtà è molto difficile avere una sufficiente copertura assicurativa. Se invece si va nell'altro senso, la protezione della persona umana di quello che ti è caro, il tuo lavoro che produce i tuoi risparmi, ma anche tutti i tuoi affetti e così via, e poi vedi i risparmi come una conseguenza di questa protezione, una solo componente, allora questo cambiamento di punto di vista renderà nel futuro molto più facile la protezione. Ecco, la sfera degli affetti, diceva lei, quindi non parlare soltanto di me stesso, non parlare solo della mia casa, della mia auto, della mia famiglia, ma di tutto questo messo assieme. Questa sfera era già presente, perché giustamente il servizio fa vedere che nella casa ci sono due componenti, una componente affettiva, che lei si affeziona alla casa, dove uno tira sulla sua famiglia, eccetera, e poi c'è anche una componente di risparmio, perché l'italiano per molti decenni era convinto che la casa fosse un investimento che non scendeva mai di valore. Bot e mattone dovevano essere gli asset più sicuri. Il mattone non tradisce mai, e allora compravano a seconda casa, quando aveva un po' più di risparmi, non poteva tenere somme enormi liquide in banca, compravano a seconda casa che non si sa mai, per i figli e così via. Sempre per i non si sa mai? Sempre per i non si sa mai. E questa saggezza, esigenza di sicurezza, di prudenza, ha portato questa distribuzione degli 8.400 miliardi di risparmi italiani con una distorsione tale che non c'è in nessun altro paese al mondo. Ecco, noi ne abbiamo, diceva anche il servizio, circa la metà in immobili, quegli 8.400 miliardi, e degli altri 4.000 di attività finanziarie, 2.000 miliardi sono praticamente liquidi, o semi liquidi. Neanche questo andrebbe così male di per sé, se non fosse che c'è un fattore emotivo fortissimo che gli americani, Kahneman ha chiamato home bias, cioè la distorsione per privilegiare quello che conosciamo, perché se lei è insicuro va sulle cose che conosce bene, sulla banca vicino a casa, sul impiegato della banca che ha fatto le scuole con lei, sulla valuta che lei conosce e che usa tutti i giorni, prima la lira e poi l'euro, e quindi i risparmi italiani sono soprattutto concentrati su quello che loro conoscono bene. In questo sono stati scalognati perché da quando c'è l'euro appartengono all'economia che è cresciuta di meno, meno ancora della Grecia. Quindi le banche con tutte le preoccupazioni, l'amico che veniva a scuola con noi non è detto che sia il miglior consulente. Perché le case, non è che ha perso di valore dappertutto, se lei a casa la comprava in Germania o in centro di Londra, adesso le case sono scese anche a Londra, ma voglio dire... Ma a New York no però. A New York no, se lei avesse avuto una casa teorica, se fosse stato sulla Luna, Robinson Crusoe, di tutte le case del mondo, rispetto all'investimento nelle case italiane, sarebbe andato molto bene. Però identifichiamo un pochino questa sfera affettiva da assicurare, che lei nel suo libro insegna come se fosse una nuova materia, cioè parla di assicurazione comportamentale, che è una branchia della finanza comportamentale, o una parte... Va in parallelo direi, perché la finanza comportamentale è una classica disciplina, ormai insegnata dappertutto, che ci spiega come la nostra mente non sia adatta a gestire risparmi, per alcune deviazioni sistematiche. Questa è un'affermazione molto forte, però la realtà poi ce la spiega naturalmente. Invece l'assicurazione comportamentale illustra gli ostacoli, soprattutto di tipo emotivo, che fanno sì che una persona non abbia un'adeguata protezione che gli garanterebbe quella sicurezza che cerca con strade sbagliate. Va anche detto che questa fiducia nel fai-da-te che ha portato a questa disperazione di risparmi, questa distribuzione che è stata così bene descritta nel servizio, adesso per fortuna da qualche anno si incrina, perché se lei tiene molti liquidi con inflazione al 10%, che ho visto anche di più per molti anni della mia vita, e con un rendimento al 10%, le persone sono contente, perché gli importano i prezzi nominali. Se invece lei ha degli investimenti che rendono neanche l'1%, con inflazione neanche l'1%, lei non è contento. E lo stesso la casa, la fiducia nel mottone si è un po' inclinata. Quindi oggi la fiducia in generale in questa strategia fai-da-te, dove la sicurezza veniva ottenuta in questi modi distorti, è una strategia che sta andando in crisi. E allora vediamo in questo servizio come dovrebbe essere posta la nostra attenzione nei confronti di tutti i nostri asset, nei confronti di tutto quello che ci appartiene. Speranze, sogni, problemi sono diversi per ogni fase della vita. Avere una buona capacità finanziaria che si adatti a questa naturale evoluzione e che ci renda pronti ad affrontare eventuali imprevisti, sono le ragioni principali che da sempre ci spingono a risparmiare e ad assicurarci. A volte però l'impresa non riesce. La colpa viene spesso attribuita al caso, alla sfortuna, quando in realtà, come molti psicologi comportamentali hanno ormai ampiamente dimostrato, le scelte che regolano la gestione dei risparmi sono spesso scelte emotive che niente hanno a che fare con la razionalità. È per questo che sempre più spesso sentiamo parlare di finanza comportamentale e assicurazione comportamentale, due scienze il cui obiettivo è aiutare il risparmiatore a controllare la propria emotività. Infatti, se la finanza comportamentale si prefigge l'obiettivo di aiutare e comprendere meglio le dinamiche psicologiche ed emotive alla base delle decisioni economiche, l'assicurazione comportamentale si concentra invece sulla percezione soggettiva del rischio, dei motivi per cui le persone non si assicurano e delle scelte delle coperture stesse. Bene, professore, allora come si fa a dimensionare la corretta copertura di quello che noi abbiamo definito il capitale umano, questa sfera di tutte le attività della famiglia, della persona? Intanto si deve riuscire a superare questo ostacolo tale per cui, benché tutto si generi del capitale umano, si immagina una persona come tanti anelli, in realtà questo capitale umano è la cosa che non si vede, i risparmi li vede, ha un portafoglio investito bene, lo misura, invece è più sfuggente, pur essendo al centro del tutto, la nostra capacità di fare reddito, di proteggere la nostra capacità di fare reddito, di proteggere i nostri cari, il nostro futuro e così via, è una cosa meno visibile. meno tangibile, e allora in realtà, come ha detto molto bene il servizio, il capitale umano di una persona, quanto vale una persona in poche parole, non il prezzo dei suoi risparmi, quanto vale una persona, è fatto, come mostrava il servizio, da delle componenti che non sono tutte omogenee. Diciamo che il risparmio è una parte di quel valore. Sì, una parte, anzi, purtroppo il risparmio è stato influenzato dall'esigenza di sicurezza, verso non si sa mai, che in realtà era l'esigenza primaria per l'italiano medio, ma purtroppo non ha saputo tradurla in strumenti adatti. Quindi il vero danno dei nostri risparmi non è stato fatto per i fattori della finanza comportamentale. Vabbè, sì, uno ha investito… Ma per il fatto di aver scelto per il non si sa mai di tenerli lì e non toccare. È bravo, perché questo ha molto più danneggiato, perché per molti anni, in fin dei conti, il tenere il titolo di Stato o anche comprare casa, non è andato male, se li prende l'arco di una persona della mia età, è solo negli ultimi dieci anni, ma se uno ha cominciato a risparmiare sui trent'anni, quarant'anni… Poi sono quelle casse di denaro che sono nelle casse forse degli italiani… Forse se avesse comprato un po' più di azioni era meglio, ma non c'era una cosa abissale. La differenza si nota adesso negli ultimi 5-10 anni, ma il grosso danno è stato fatto dal coprire in maniera sbagliata un'esigenza giusta. Ecco, coprire in maniera sbagliata un'esigenza giusta, però lei prima stava parlando relativamente al capitale umano di più componenti, poi io l'ho portata sul discorso di risparmio. Le altre componenti però, quali sono? Le altre componenti del capitale sono le cose, dette in poche parole, a cui quella persona ci tiene molto. Magari talvolta dà per scontato, come dicono gli americani, per default che quelle cose ci saranno. Ci sarà la salute, la sua capacità di guadagnare, la sua capacità di successo, il fatto che in famiglia va tutto bene. Quel giusto ottimismo di chi è un po' imprenditore di se stesso e imprenditore negli affari fa sì che tutte queste aree di possibili vulnerabilità vengono sottostimate. Però anche qua c'è una cosa più profonda, non è che le persone non abbiano paura degli eventi negativi, non è che le persone siano sventate, anzi, buon padre, famiglia è prudente, è che in realtà si tende ad avere paura delle cose che sono paurose nella nostra cultura e che impariamo che sono paurose e non delle cose che sono oggettivamente pericolose. Mi fa un esempio? Beh, per esempio, l'esempio che viene sempre fatto quando si insegna in università sono il mezzo di trasporto. I mezzi di trasporto in cui ne abbiamo paura, come gli aerei, sono in realtà i mezzi più sicuri. Nelle malattie, le malattie di cui noi, le maggiori cause di morte vengono sottostimate nella loro importanza. Preferiamo non pensarci, è anche un discorso psicologico. Sì, qui c'è un aspetto un po' più tecnico della, come posso dire, la curva della paura. L'ideale per affrontare questi timori, questi giusti timori, è di non avere né troppa paura perché allora non li vogliamo neanche pensarci, e neanche troppa paura perché allora la ammortizziamo in modi sbagliati, se ne abbiamo troppa. Il giusto confine, che purtroppo è un canale molto stretto, è quel canale in cui tu ne hai né troppa né troppa poca e lì le paure tendono a coincidere con i veri pericoli. Noi abbiamo due minuti e venticinque, dà un consiglio ai nostri telespettatori su come affrontare correttamente questo aspetto, perché poi io da solo sono in grado di valutare il mio capitale umano, il mio valore intrinseco. Questo è molto difficile perché spesso viene sovrastimato per alcuni aspetti, ecco la sicurezza verso il futuro e così via, poi le persone subiscono una sorta di illusione che pensano che il mondo non cambi, il loro mondo non cambi, in realtà il mondo cambia molto di più di quello che le persone pensano, percepiscono. E in genere, data la cultura media, chiamiamola assicurativo finanziaria, per usare i termini tradizionali, farci capire, degli italiani è così scarsa che un consulente, anche se non è bravissimo, fa molto meglio di quanto non faccia uno col fai da te di questi tempi, perché il fai da te adesso è rovinoso. Come si fa a vincere quella paura tavica però verso il mondo assicurativo? Perché c'è sempre anche questo concetto che magari poi faccio quella copertura, non mi hanno più pagato. Perché bisogna sperare, grazie anche ai vostri bondi, che in realtà non ci si rappresenti uno esperto per ogni pezzo del nostro capitale umano, cioè non uno che ci gestisce i risparmi, uno che ci gestisce le assicurazioni e avanti così, uno che ci gestisce la pensione, la sicurezza prividenziale pensionistica, ma affrontare in maniera globale il valore della persona, cioè di partire nell'altro senso e quindi vedere per esempio il risparmio come una risultante dopo che lei ha sistemato le altre cose. Uno da solo è difficile che riesca a fare questo, onestamente. Avere un panorama ampio lo permette poi di fare le giuste dimensioni del tutto. Sì, e anche perché uno dal di fuori vede lei molto meglio di come lei vede se stessa. Ecco, una visione esterna è fondamentale. Professore, io la ringrazio per averla avuta qui a Mercati che fare e spero di averla in altre occasioni perché è stato estremamente interessante e preciso nelle cose che ci ha raccontato. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Mercati che fare, torna sempre alla stessa ora. Vi ricordo in chiusura l'economia nella mente, Paolo Legrenzi e Armando Massarenti. Arrivederci e buona serata. Grazie. 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 Grazie.